In questa guida ti mostreremo come ricaricare il tuo account sull'exchange dei criptovalute MEX e acquistare i token ultima. Accede all'exchange. Seleziona Wallets, Deposit. Seleziona dalle elenco le criptovalute che vuoi trasferire sull'exchange e la rete desiderata. Dopodiché, clicca su Click to generate address. Apparirà un codice QR per la ricarica e un indirizzo che potrai copiare. Invia la criptovaluta a questo indirizzo nel modo che preferisci. Attendi che la transazione venga elaborata. Al termine dell'elaborazione vedrai che il saldo del tuo pagamento è aumentato. Ora puoi effettuare il tuo primo ordine. Per farlo, vai alla sezione Spot. Nella parte destra della sezione di ricerca, inserisci il nome della criptovaluta che vuoi acquistare. Andiamo a cercare Ultima. Per acquistare Ultima al prezzo di mercato, cioè quello attuale, puoi acquistare Ultima al prezzo di mercato, cioè quello attuale, o impostare un ordine limite al prezzo che desideri. Inoltre, puoi impostare un ordine Stop Limit, che ti permette di impostare contemporaneamente un prezzo Stop e un prezzo Limit per controllare il prezzo di esecuzione della tua operazione. Seleziona il tipo di ordine desiderato. Seleziona il prezzo al quale vuoi acquistare Ultima, nel caso di un ordine Limit, la quantità di Ultima che vuoi acquistare e clicca sul pulsante Buy Ultima. Fatto! Hai acquistato Ultima sull'Exchange Max. Ora devi trasferirli sul tuo Smart Wallet. Per inviare i token dall'Exchange, dovrai copiare l'indirizzo del tuo portafoglio. Per farlo, apri l'applicazione Smart Wallet e clicca sulla scheda Ultima. Vedrai l'indirizzo del tuo portafoglio, che potrai copiare cliccando sull'icona da copiare. Torna su Max. Seleziona Wallet with Road dal menu. Inserisci il nome del token Ultima nella barra di ricerca. Inserisci l'indirizzo del portafoglio copiato e l'importo di Ultima che vuoi trasferire. Conferma il trasferimento e attendi che l'Exchange elabori la transazione. Una volta elaborata la transazione, i token verranno trasferiti sul tuo portafoglio. Nota bene, per inviare transazioni con Ultima dal tuo portafoglio, devi avere dei cont Smart sul tuo saldo. Puoi ottenere Smart nei seguenti modi. 1. Chiedere a qualcuno di inviarteli. 2. Ottenerli tramite swapping. 3. Acquistarli su un Exchange e trasferirli sul tuo portafoglio. Il processo di trasferimento di Smart da un Exchange sul tuo portafoglio è simile al processo di trasferimento di Ultima descritto in questo tutorial. Grazie a tutti.